Sì ci riusciamo ad arrivare in meno tempo Vai Uno va in bugione Ok Tu che magari sei più in alto di me controlla se c'è qualcuno Non mi sembra No ce n'è uno Vedo della gente in prigione Vedo della gente in prigione In che sessione gente Però è in prigione È in prigione Eh la gente sta in prigione tutta Quindi non passiamo dalla prigione Se non passiamo dalla prigione Facciamo un giro a largo Ma sicuramente con la sfiga Che abbiamo Passiamo da lontano proprio Oh vai una cassa Vai R blu Ok No Non è medikit È meglio Un pompa blu Lo prendo Vai io Lo scudo più medikit Non ho ancora trovato un'arma Cosa che non mi piace Ok Proiettili pesanti Ok vicino alla safe Rimaniamo qua Rimaniamo qua Rimaniamo qua in zona Ok cecchino 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 Vai Cecchino più Due medikit Due medikit C'è il cecchino Uh Sì però questa fa cagare Ok ho trovato Lì lo scudo quello Quello Lo scudo quello di merda Lo slurp Per cazzo però la safe Verso la prigione Ma sì tanto Non dobbiamo passare di lì Tanto non ci dobbiamo passare di lì Luttiamo ancora un po' Sta zona Dimmi se hai una R Se hai una R in più Sì Io ho una R Una R in più Se hai una R in più Da darmi Che da solo questo Ho Ho quella di Echo Se vuoi eh Eh anch'io Anch'io ho quella Ok Purtroppo ce l'ho anch'io quella Ok La casa l'hai luttata? Sì l'ho luttata Ok Vado a luttare un attimo Una casettina che c'è qua Mh Intanto io prendo Poi Passiamo da Dal mare Passiamo Passiamo dal mare Ok Cioè dobbiamo costaggiare un po' la mappa Così Sto prendendo un bel po' di legna Io intanto eh Ok io Boh non la sto a prendere Ok c'è la cassa Perfetto Mh Perché c'è un albero intero Ok Prendiamo Il legno Andiamo a prendere la cassa che c'è qua sotto Che culo che ho trovato la cassa Ok ho trovato una mia traghettina di merda Un bel po' di Un bel po' di cosa io eh Pompa Vai il pompa ho trovato Che culo Un po' di proiettili Pompa quello blu Io il pompa blu l'ho trovato Quanto è la se... Ok manca ancora un minuto Ok va bene Tutto in troppo da qua eh Ma se tanto ce ne vuole Ok vai Andiamo 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 verso la safe Andiamo ancora Però dobbiamo costeggiare Costeggiamo Fermati Fermati Aspettami un attimo Ma si tanto Ce la fai da arrivare E' una mia andata insieme E ma tanto Siamo insieme Così tanto Lasciamo perdere Però dalla mappa Sembra una pista Tipo una pista di go kart Ci fermiamo lì e Luttiamo Luttiamo le cose che ci sono sulla pista E basta Allora c'è il pompa quello che piace a me Però è bianco Quindi non lo sto a prendere Visto che io ho quello blu Cioè io non ho niente la dart Cioè La dart io non c'ho niente Sicuramente non è il cecchino È l'arma di eco Ha 5 colpi però Non hanno Sicuramente non ti do il cecchino Perché il cecchino mi serve Dovano a vederne la casa Qua non l'hanno lottato Non l'hanno lottato Non l'hanno lottato Cazzo mi invita Pier Che palla Non c'ho voglia di giocare Oh se trovi una R Lasciano al favore Sono stati qui Ci sono stati Non c'è niente Proprio niente Zero Niente Non c'è stati Infatti hanno col solito una scala Ok Solo se c'era una R I dammela Però niente Ok Si ho messo già meglio di prima Però eh Uh c'è una cassa là Ah no Ok no L'hanno già presa Io si ho messo peggio di prima Io si ho messo peggio di prima Con il cecchino Figa Uh ok Ok la R con la Ok la R che va bene La nuova safe Spero sia qua vicino Spero sia più vicino possibile Ok airdrop Airdrop qua Airdrop qua Airdrop qua Diego 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 Airdrop qua Vai Apri Vai Prendile tu le bende Prendile tu le bende Prendile tu Ok Ne lascio il 18 Ok Va bene Grazie C'era un airdrop Che è qua vicino Comunque Fammi costruire No vabbè Che se ne fia Che se ne fia Spero ci sia lo scar C'è Kino Prendilo 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 Ok Diego Ti lascio Ti lascio uno scudo No no Ti lascio anche uno scudo Ti lascio pure sto scudo Tieni 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 Dammi i spragetti Ok Aspetta Vai Aspetta vai 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 Andiamo 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 Non ti devi muovere Non ti devi scoprire Diego Non muoverti Non muoverti Non muoverti Ok Non ti devi scoprire Andiamo Aspetta Atterrato Diego Non challengearlo Non challengeamoli Non challengeamoli Non challengeamoli Io sono in safe Io sono in safe Io sono in safe Io no Ucciso un altro Vai 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 Ucciso uno Però c'è anche il suo compare C'è anche il suo compare in giro Da qualche parte Diego coprimi da dietro Coprimi da dietro Diego coprimi da dietro per favore Sta costruendo Lollo Di sopra Dove? Ok 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 so anche dov'è un altro So anche dov'è un altro Un altro team Sto parando So dov'è uno di un altro team Ucciso 3v3 Diego Lo vedo Dai eh 3v3 Siamo noi due contro uno Noi due contro uno siamo Noi due contro uno siamo Diego Sai dov'è? Sai dov'è Diego? Cazzo lì Merda Dov'è? È lì È lì L'ho colpito L'ho colpito troppo 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 L'ho colpito Ti rianimo Vai 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 Fermo Ok no 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 Aspettate Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie per la visione